Ruscovacic, benvenuto a Trento, prima giornata a Trentina, come è stato l'impatto con la nuova città, la nuova realtà, la nuova squadra, una nuova avventura per te? È stata perfetta, sono arrivato ieri mattina, ho fatto un allenamento, avevo un sacco di impegni, dovevo fare un sacco di cose come sempre il primo giorno in una nuova stagione, ho preso l'appartamento, ho preso la macchina, era molto impegnato e dopo ho fatto allenamento, cena, dormito, così è stato il primo giorno. Ma che diagonale sarà questa diagonale di schiacciatori Lanza-Kovacevic? Ma sarà perfetta. Gli obiettivi di Trento comunque è provare a giocarsela fino in fondo in ogni manifestazione? Sì, certamente, Trento è abituato di giocare al finale, adesso secondo me è tempo di vincere e allora speriamo, speriamo di vincere qualcosa. Vi trovi Angelo Lorenzetti che ti ha portato in Italia insieme proprio a Bruno Dare, si ricompone il trio che eravate a Modena e si ricompone con tanta voglia di far bene anche a Trento? Sì, Angelo e Bruno mi hanno chiamato quando ero molto giovane, sono arrivato in Modena perché mi hanno chiamato proprio loro due e ancora siamo qua insieme e sono molto molto soddisfatto per quello. Sarà un campionato di alto livello quello prossimo, sarà un campionato molto difficile con tante squadre forti? Sì, questo campionato, volevo dire, quando io sono arrivato in Italia non era così forte il campionato 2012-13, adesso tutti possono vincere contro di tutti, allora contro di tutti devi giocare in 100% se vuoi fare qualcosa, se no puoi perdere contro di tutti. Nicola Ghirbic cosa ti ha detto di Trento visto che lui qua ha vinto non poco? Mi ha detto solo belle parole e lui era io, ho chiesto a lui perché lui era mio allenatore anche a Verona e anche in nazionale, ho chiesto cosa pensi di Trento, di mia carriera di là e lui mi ha detto guarda che è Trento, è Trento, è Trento proprio e quando mi ha detto questo ho deciso di sicuro firmare per qua. Grazie a tutti.